Luigi Di Maio torna ad attaccare centrodestra e partito democratico e rivendica il ruolo del Movimento 5 Stelle. Il 4 marzo ci sarà un ballottaggio tra noi e i partiti di centrodestra che hanno rubato il futuro ai giovani e meno giovani italiani. Il PD è fuori combattimento, anzi Renzi fa la campagna per noi raccontando a tutti che abbiamo restituito 23 milioni di euro di stipendi. È il momento di reagire come paese. Il 4 marzo gli italiani sono chiamati a votare per un ballottaggio. Tra noi e il centrodestra, tra noi e i partiti che hanno candidato uno che non è elegibile, non è candidabile. Tra noi che abbiamo rinunciato ai vitalizi e loro che si sono pappati per anni.